Ad è stato scalpore in città la notizia del sequestro all'ingegnere aquilano Mario Corridore, dipendente del comune dell'Aquila, che nelle vesti di amministratore di condominio avrebbe, secondo l'accusa, pilotato l'assegnazione di lavori edili per un importo complessivo di circa 9 milioni di euro ad un'impresa di treviso dell'imprenditore Aldotasca, assegnando alla figlia Ilaria il ruolo di progettista e direttore dei lavori. L'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila segue le altre e scatta a sette anni esatti dal terremoto. Figura centrale, secondo l'accusa, l'ingegner Corridore, responsabile dell'ufficio sviluppo aeroportuale del comune. L'operazione, condotta sul campo dalla Guardia di finanza dell'Aquila, ha portato ad una confisca di un valore di 264 mila euro. Gli indagati sono tre, oltre a Corridore, anche la figlia e il rappresentante legale dell'impresa, l'imprenditore Aldotasca. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'inchiesta sarebbe nata sulla scorta di un'indagine precedente, che vede lo stesso corridore indagato, con altre quattro persone, per truffa, per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in atto pubblico. La finanza si sarebbe mossa attraverso lo strumento delle intercettazioni, per approfondire la vicenda e formulare le nuove accuse, che ovviamente andranno tutte verificate. Le ipotesi di reato, comunque, sono truffa ai danni dello Stato e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. Come spiega una nota delle fiamme gialle, è chiaramente emerso come il pubblico funzionario, in totale spregio dei propri obblighi e doveri al solo fine di perseguire interessi personali e familiari, abbia posto in essere una serie di lecidi comportamenti che gli hanno consentito di ottenere in debiti vantaggi patrimoniali. Vantaggi quantificati in 214 mila euro circa corrispondenti ai compensi professionali percepiti dalla figlia e in circa 50 mila euro corrispondenti ad un forte sconto extra contratto concesso alla ditta, secondo l'accusa giudicataria dei lavori, quale contropartita per l'assegnazione dell'appalto in ordine all'identificazione di alcuni billetti a schiera nella frazione aquilana di Pianola, di proprietà di una società immobiliare riconducibile alla figlia del pubblico dipendente.